Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Vergine Immacolata, a Te affidiamo i nostri cuori, le nostre famiglie, la nostra comunità di fede in cammino. A Te, Madre, della Divina Misericordia, consacriamo la nostra vita e Ti chiediamo il Tuo aiuto materno per realizzare la nostra trasfigurazione in Cristo. Maria, Vergine di Fatima, accogli con la benevolenza di una madre l'atto di affidamento che facciamo dinanzi a Te. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai Tui occhi e che nulla Ti è estraneo di tutto quello che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal Tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del Tuo sorriso. Madre della Chiesa, illumina il popolo di Dio sulle vie della fede, della speranza e della carità. Nostra Signora del Rosario di Fatima, prega per noi. O Vergine Santissima del Rosario di Pompei, Tu, dal Tuo trono dove sei di regina, spargi un fiume di grazie e miracoli e ci additi i misteri del Santo Rosario per ottenerli. O Vergine Potente, gli onori, i ringraziamenti e gli ex voto senza fine che adornano il Tuo santuario mi danno speranza che una grazia l'hai preparata anche per me. Mi inginocchio con il cuore al Tuo altare e Ti prego di donarmi la grazia che tanto desidero. Nostra Signora del Rosario di Pompei, prega per noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A Te ricorriamo, esuri figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemento, o pia, o dolce Vergine Maria. Pensiero del giorno Conoscete le quindici promesse della Madonna per chi recita il Rosario? Ecco le quindici promesse pronunciate dalla Madonna San Domenico e al Beato Alano della Rupe. A tutti quelli che reciteranno devotamente il mio Rosario, io prometto la mia protezione speciale e grandissimi grazie. Colui che persevererà nella recitazione del mio Rosario, riceverà qualche grazia insigne. Il Rosario sarà una difesa potentissima contro l'inferno, distruggerà i vizi, le libertà dal peccato, dissiperà le eresie. Il Rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà le anime le più abbondanti misericordie divine. Sostitueranno i cuori l'amore di Dio all'amore del mondo, Elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. Quante anime si santificheranno con questo mezzo. Colui che si affida a me con il Rosario non perirà. Colui che reciterà devotamente il mio Rosario, meditando i suoi misteri, Non sarà oppresso dalla disgrazia. Peccatore si convertirà. Giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna. I veri devoti del mio Rosario non moriranno senza i sacramenti della Chiesa. Coloro che recitano il mio Rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. Libererò molto prontamente dal Purgatorio le anime devote del mio Rosario. I veri figli del mio Rosario godranno di una grande gloria in cielo. Quello che chiederete con il mio Rosario lo otterrete. Coloro che diffonderanno il mio Rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità. Io ho ottenuto da mio figlio che tutti i membri della confraternità del Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i Santi del Cielo. Coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Cristo Gesù. La devozione al mio Rosario è un grande segno di predestinazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.